E' diventata ufficiale ieri mattina la fine dell'esperienza da sindaco di Castellabate per Costabile Spinelli. Infatti, dopo nove anni, termina il suo incarico con la dichiarazione di decadenza avvenuta nel Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria ieri mattina. Spinelli, che verrà sostituito dal vice sindaco Luisa Maiuri, proseguirà con una nuova esperienza già a breve, ovvero con la corsa alle regionali, candidandosi con Forza Italia. Queste le sue parole pubblicate sulla pagina istituzionale dell'ormai ex primo cittadino di Castellabate. Con il Consiglio Comunale di ieri mattina si è conclusa la mia esperienza di sindaco del comune di Castellabate. Oggi mi guardo indietro, rifletto sugli ultimi nove anni, penso alle cose fatte, al percorso tracciato, a tutte le esperienze vissute e soprattutto a cosa abbia significato per me essere sindaco di Castellabate. Essere sindaco è un'esperienza assoluta che ti segna per sempre e ciò che di più gratificante possa accadere a chi sceglie di far politica ed è motivo di maggiore orgoglio se lo diventa nel luogo in cui sei nato, in cui hai deciso di restare e che ami. Essere sindaco significa essere al completo servizio dei tuoi cittadini e della tua terra senza pause e distrazioni e io credo in questi anni di non essermi risparmiato spendendo tutte le mie energie per provare a cambiare e a far crescere Castellabate. La responsabilità che senti dal primo giorno in cui vieni proclamato sindaco fa crescere in te una consapevolezza nuova, sai che le tue azioni e le tue decisioni determineranno il futuro della tua comunità e con il passare del tempo ti accorgi di essere diventato un riferimento per tanti. Questa responsabilità l'ho sentita ancora più forte negli ultimi mesi quando pur di tutelare la salute di ognuno di voi mi sono trovato a gestire una situazione senza precedenti e ad assumere decisioni dure per evitare un rischio al quale nessuno di noi era preparato. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso, i miei amministratori, tutti i collaboratori e i dipendenti comunali, la mia famiglia alla quale ho stottratto tempo che non potrò restituire e ringrazio soprattutto voi, i miei concittadini, per avermi dato la possibilità per due mandati consecutivi di rappresentarvi e rappresentare la nostra Castellabate.